Un saluto da Fabio D'Alio di Trebi Meteo. Scaricate le nostre app per smartphone e tablet dagli store cercando Trebi Meteo. Troverete informazioni sempre puntuali ed aggiornate, soprattutto sulla previsione oraria, per le vostre località di maggior interesse. Ma passiamo ora al tempo previsto per la giornata di martedì, quando ancora una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale continuerà ad insistere sull'Italia, determinando condizioni di instabilità con frequenti nuvole e piovaschi. Vediamo le temperature minime che saranno stabili su valori piuttosto freschi al nord. Per quanto riguarda le temperature massime, da segnalare valori stazionari o al più in ulteriore ribasso, soprattutto sulle regioni centrali, dove il clima sarà anche piuttosto fresco. Vediamo il tempo previsto al nord, dove la giornata sarà dominata dall'instabilità, specie durante le ore pomeridiane, con formazioni di rovesce temporali, soprattutto in montagna, che però dal pomeriggio sera tenderanno a sconfinare sulle pianure, specie centro-occidentali. Tempo invece un po' più soleggiato lungo le coste. Passando alle regioni centrali, condizioni di instabilità anche in questo caso diffusa sin dal mattino, con frequenti fenomeni, specie lungo la dorsale appenninica, ma anche sui versanti adriatici e sul Lazio. Qualche schiarità in più invece sulla Toscana nord-occidentale. Ed infine al sud, dove la giornata anche qui sarà dominata dall'instabilità, soprattutto sui settori peninsulari interni, con formazione quindi di frequenti rovesci, d'acquazioni anche a sfondo temporalesco. I fenomeni non mancheranno anche sulle aree interne della Sicilia, specie nel corso del pomeriggio, così come sulla Sardegna, mentre lungo le coste prevarrà il bel tempo. Bene, con questo è tutto. Vi rimando ai prossimi aggiornamenti su trabimeteo.com Grazie.